Ha attraversato due guerre, vissuto la storia di Verona dal 1925 ad oggi, parliamo di un'azienda tutta verorese impegnata nel settore della distribuzione alimentare che in questi anni ha raggiunto fattorati di eccellenza e questo grazie a... Soprattutto non bisogna dimenticare la nostra storia e le nostre origini, che sono quelle che ci possono portare avanti, non c'è niente da fare, quella è la nostra possibilità di portarci avanti, la storia, bisogna conoscerla, non bisogna dimenticarla, questo posso dirti. 90 anni non sono pochi e di sicuro segnano un esempio per l'intera città. La cosa bella è la tradizione familiare perché sono più generazioni che hanno continuato, quindi hanno trasmesso di padre in figlio la stessa passione per il lavoro ed è il bello dell'imprenditoria Veneta, cioè che famiglie che lavorano, che ci credono, che investono e ottengono successo e soprattutto creano dei rapporti umani perché chi è qua stasera sono clienti che sono diventati amici e questa è la cosa più bella. È il 1925 che è iniziato questa attività in Sordina, è ancora una famiglia che non fa di sé una grande pubblicità, però parlano i fatti, 90 anni, un'attività molto avviata che ha dato avvio anche ad altre attività similari e che in un momento di crisi è così efficiente, è merito della famiglia, dei figli, di tutti i collaboratori e anche da prendere ad esempio qua a Verona. Il segreto sta tutto nella conduzione familiare e nel saper operare ovunque. Questi anni sicuramente ci hanno contraddistinto la nostra forza di volontà e di riuscire a trovare sempre una soluzione in ogni momento, anche nei momenti più difficili, perché in tutto questo periodo ne abbiamo viste di tutti i colori, però siamo riusciti a rimanere a Gallia perché abbiamo sempre avuto la fortuna e l'abilità di trovare il canale giusto per sopperire alle mancanze e riuscire a fare i fatturati. La forza a volte e soprattutto è il prezzo, quindi a me sta l'ardo compito di poter fare degli affari, diciamo così tra virgolette, con i fornitori, riuscire sempre a spuntare la migliore condizione, ma anche ad avere l'assortimento che serve, più opportuno, senza voler strafare a volte con le profondità perché l'assortimento è costoso di se stesso, quindi chiaramente parliamo di competitività, però abbiamo il servizio che è quello che ci dà un po' ragione ultimamente, insomma, quindi assortimento e servizio.